Ben arrivati e ben trovati a tutti gli amici del 264 Cusano Italia TV, nuovo appuntamento in compagnia di Dietro la Lavagna, come al solito la lavagna che ci viene in soccorso e cerchiamo di inquadrarla nella sua totalità per capire di cosa ci occuperemo oggi, medicina ambientale, la medicina ambientale che è una branca multidisciplinare della medicina che studia l'influenza dei fattori ambientali proprio sull'insorgenza delle patologie, è un tema strettamente attuale che avremo la possibilità di trattare con i vertici di Sima, la società italiana di medicina ambientale e sto parlando e vado evidentemente a presentarli del presidente di Sima, il professor Alessandro Miani in collegamento con noi, andiamo subito a salutarlo, ben trovato professor Miani. Grazie, buongiorno a voi. Ben arrivato e ben trovato e anche il vice presidente di Sima, il professor Prisco Piscitelli, anche lui in collegamento Skype, lo vediamo e lo salutiamo. Salve professore, ben trovato, ben trovato a lei. Grazie evidentemente per la vostra partecipazione che ci dà la possibilità di parlare della medicina ambientale in senso stretto, possiamo farlo e lo faremo anche parlandovi di un'offerta didattica importante, di un master di secondo livello, ma insomma abbiamo modo e tempo di parlare di tutto. Prima di iniziare chiedo ovviamente un paio di secondi di pazienza ai miei ospiti perché abbiamo il piacere ovviamente di ospitare i vertici di Sima, avremo avuto il grande piacere di ospitare anche il presidente dell'Anvur, il professor Antonio Felice Uricchio, però non siamo riusciti per i tanti impegni che ha il presidente, ma vi promettiamo, vi garantisco io se vi fidate che recupereremo l'intervista, l'intervento, perché tra le altre cose conosciamo l'estrema disponibilità del professor Uricchio che ho sentito personalmente e ripetutamente in radio, quindi la sua defezione dell'ultima ora è legata assolutamente a un impegno improrogabile. Bene, questo vi dovevo per rendervi conto di come era stata strutturata la puntata che sarà comunque assolutamente interessante, andiamo inizialmente dal professor Alessandro Miani, io ho cercato di sintetizzare un po' quel che è la medicina ambientale, ovviamente lei lo farà molto meglio di me professore. Ci proviamo, però è stato molto bravo. Grazie. La medicina ambientale è appunto un approccio multidisciplinare atto a far sì che ciò che noi chiamiamo ambiente, ovvero sia ciò che ci circonda e ciò che ci pervade, non possa diventare un fattore causa o con causa di malattie, infortunio o morte prematura. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 24% di tutte le malattie, di tutte le morti nel mondo sono dovuti a fattori ambientali. Quindi perché multidisciplinare? Perché l'approccio è quello della One Health e quindi per ogni problema viene visto da diversi punti di vista, non solo quelli dal punto di vista sanitario o comunque medico scientifico, ma può essere visto da un punto di vista ingegneristico, economico, giuridico, quindi ci sono molti approcci che concorrono tutti per delineare il problema e trovarne la soluzione. Ebbene, questa è la medicina ambientale, tra l'altro una disciplina di strettissima attualità perché stiamo ancora vivendo, tra l'altro è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio, questo a testimonianza del fatto che non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid-19 che in questi mesi è stata legata a filo doppio a tanti fattori, anche al fattore ambientale, all'inquinamento, all'aria, al fatto che potesse essere veicolato addirittura nell'ambiente dall'inquinamento il coronavirus. Su questo andiamo a chiedere al professor Prisco Piscitelli che è epidemiologo. Ecco, in questo momento non so se il lavoro più invidiato da tutti o sta diventando un po' professore anche quello più difficile da svolgere perché la vostra categoria, se me lo permette, è sotto i riflettori da qualche mese e qualcuno ne ha anche pagato dazio, perché poi alcune dichiarazioni sono andate contrariamente a come sono andati poi i fatti, quindi insomma siete sul filo del rasoio professore. Soprattutto quando ci sono tutte le informazioni disponibili come avuto all'inizio dell'epidemia, dove le informazioni che avevamo erano parziali o non corrispondevano affatto, per esempio pensiamo alle date di esordio dei primi casi in Cina che sono stati poi molto retrodatati e conseguentemente alla diffusione poi del virus. Certo, abbiamo avuto tutte le informazioni fin dall'inizio in maniera che avrebbe consentito forse sia al nostro paese altri stati, prendere quelle precauzioni e misure necessarie in tempo, così come anche è un virus che è nuovo, quindi non lo conosciamo, è un virus che è trovato del tutto impreparati, ma è la base di quelle che sono le conoscenze relative ad altri virus rispetto ad esempio come citava lei, l'inquinamento atmosferico e il particolato. Con la Sima abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro che è partito da quelle che erano le conoscenze sugli altri virus, cioè sulla capacità di altri virus di aderire al particolato atmosferico, il virus del morbillo come il virus dell'aviaria o lo stesso virus influenzale per i quali esistevano tutta una serie di studi sia asiatici che americani, per cominciare a porci una domanda legittima, perché era legittimo porci una domanda di ricerca, cioè se anche questo nuovo coronavirus potesse comportarsi in questo modo innanzitutto e poi che conseguenze questo potesse avere. Siamo partiti dal danno epidemiologico ovviamente. Certo, professore resto un secondo su di lei, poi torno dal professor Miani in un batti e ribatti che renderà sicuramente questa mezz'ora scarsa animata e piena di contenuti interessanti. Resto su di lei perché volevo chiedere, lei mi dice giustamente a suo tempo, già qualche mese fa, qualche epidemiologo si lanciava in dichiarazioni che non potevano essere sorrette da dati e soprattutto era tutto molto più ardimentoso perché si parlava di un virus sconosciuto. Ecco, oggi a che punto siamo? Abbiamo conquistato qualche punto, qualche vantaggio contro questo nemico invisibile? Siamo in grado di prevederne un po' il comportamento da qui in avanti, professore? Sicuramente sappiamo molte cose in più di questo virus e quindi questo ci aiuterà sicuramente a prevenire. Pensate semplicemente anche alle misure che possono sembrare banali, quelle del distanziamento fisico, non mi piace chiamarlo distanziamento sociale, il distanziamento fisico ma anche dell'utilizzo delle mascherine. Pensate solo su questo tema quante controversie e informazioni diverse o diversi si sono succeduti anche in relazione alla diversa conoscenza sulla reale circolazione del virus nelle popolazioni, quando il nostro istituto superiore di sanità tra fine gennaio e inizio febbraio ancora sconsigliava l'utilizzo delle mascherine, con ciò voglio dire dando una indicazione a tutti noi operatori del settore, molto istituzionale, importante, in realtà lo faceva basandosi su un dato che non era corretto, cioè quello che il virus non stesse ancora circolando nel nostro paese di interamente. Quindi oggi sappiamo molte cose in più e a parte questo tipo di suggerimenti stiamo lavorando con la comunità scientifica, ci sono laboratori in tutto il mondo, stanno lavorando a misure di immunizzazione passiva, quello che facciamo per esempio un po' con l'antitetanica, qualcosa di prodotto in laboratorio molto simile all'infusione degli anticorpi delle persone guarite, tanto spiegato in parole povere e poi anche il vaccino che è anche qualcosa di diverso, l'immunizzazione passiva che si spera in un prossimo futuro può essere disponibile. il prima possibile a tranquillizzarci ma soprattutto a rendere il coronavirus un brutto ricordo. Vorrei tornare dal professor Miani perché leggevo proprio in questi giorni professore che c'è stato un boom di richieste per partecipare ai test d'ingresso, numero programmato come al solito che riguarda le professioni sanitarie perché si dava anche una lettura sociologica se vuole del fenomeno. Tanti giovani hanno sentito una spinta emotiva particolare e vogliono fare i medici. Ecco, ci sono anche tanti giovani che vogliono intraprendere la strada della medicina ambientale. Sì, ma in partnership didattica con l'Università Niccolò Cusano ha strutturato un percorso proprio per soddisfare queste richieste, è vero professore? Sì, infatti abbiamo dato vita e presentato proprio nella giornata di oggi il primo master universitario, il primo master che si realizza in Italia a livello universitario di medicina ambientale. E' un passo importante a cui noi contribuiamo con il coordinamento scientifico e con, diciamo, fornendo professori del nostro comitato scientifico come docenti e come dicevo poc'anzi non sono solo medici ma ci sono anche ingegneri perché si tratterà sicuramente dei problemi legati all'ethosmog, geologi, problemi legati all'amianto piuttosto che a radon. Ci sono anche membri delle, chiamiamole forze dell'ordine, nel senso che abbiamo un generale della Guardia di Finanza perché anche, diciamo, anche i finanzieri operano sul territorio in questi ambiti, vigili del fuoco per quanto riguarda i rischi nucleari, biologici, chimici e radiattivi, l'INAI, la sicurezza sul lavoro. Insomma, come dicevo prima, è un approccio molteplice che andrà sicuramente in primi stanza ad indagare quelli che sono gli inquinanti matrice per matrice. L'Italia purtroppo soffre di problemi, possiamo dire, un po' ancestrali o perlomeno in Europa è un po' un fanalino di coda da molti punti di vista per quanto riguarda i temi ambientali e la salute ad essa connessa. Pensi che siamo il paese che in Europa ha il maggior numero di vittime all'anno di decessi prematuri per inquinamento atmosferico. Ci sono molti dati allarmanti che ci arrivano, diciamo, tutti i giorni dall'Italia, riferiti a inquinanti emergenti che provocano disturbi del neurosviluppo nei più giovani, sterilità, problemi di sterilità e tante altre situazioni critiche per cui diventa importante non solamente per un medico conoscere questo tema e quindi professionalizzarsi, ma può essere molto utile anche per un farmacista, per un veterinario, per un biologo e magari alcuni si chiederanno perché un giurista o un economista, perché comunque essendo un approccio unico, tutte queste tematiche hanno poi un costo sociale ma anche un costo economico e devono essere spiegate in maniera corretta e affrontate dal decisore, sia esso a livello regionale e nazionale e portate poi sotto forma di leggi per vedere di risolvere la base del problema. Perché l'inquinamento atmosferico, per fare un esempio, è dovuto a tanti fattori. Abbiamo la zootecnia e quindi agraria veterinaria, abbiamo il mondo dell'industria e quindi può essere ingegneria e via dicendo, può essere legato a problemi che vengono direttamente dalle case e quindi di nuova ingegneria, architettura, materiali sostenibili, riscaldamenti, energie rinnovabili e noi possiamo curare i sintomi ma quello che conta veramente è fare prevenzione e la prevenzione primaria è l'obiettivo, insegnare la prevenzione primaria all'interno di questo master è l'obiettivo principale, oltre che fare conoscere il tema, tutte le matrici ambientali, quali sono i rischi ad esse collegate e come si può intervenire anche con un buon principio di precauzione che purtroppo in Italia anche questo ultimamente non è molto considerato. si è venuto a mancare, ecco vi abbiamo spiegato primariamente io poi il professor Miani che cos'è la medicina ambientale, abbiamo utilizzato la parola multidisciplinare e lo avete capito anche nelle dichiarazioni appena rilasciate proprio dal professor Miani quanti campi vengono non solo toccati ma proprio attraversati trasversalmente da questa disciplina che affonda le sue radici in tanti segmenti e poi ne fa una disciplina unica. Andiamo allora dal professor Piscitelli che è nel boarding del master, ecco professore esattamente abbiamo ripreso un'inquadratura diciamo giusta, corretta, professore di cosa si occuperà lei all'interno di questo percorso post laurea e soprattutto qual è il suo obiettivo, la sua finalità professore? Altre parole chiave sono sicuramente la parola sostenibilità, la parola prevenzione e se vuole anche principio di precauzione, quindi si tratta di alcuni pilastri, di quella che è la sfida che abbiamo davanti, che è quella della salute globale e planetaria, se vuole abbinare al concetto di cambiamenti climatici, che condizionerà sempre di più il nostro stato di salute, se salute è intesa come stato di benessere non solo fisico ma anche psichico, sociale, economico. Quindi il concetto di salute è di per sé oggi come oggi molto interdisciplinare, ma lo è da quando nel 78 l'OMS approvò la dichiarazione di Almata con la nuova definizione di salute, introducendo quindi tutto ciò che non era strettamente legato all'assenza di malattia in questo grandissimo concetto. Oggi tutti noi capiamo che la nostra salute è indissolubilmente legata a quella del pianeta e questo investe in pieno modelli di sviluppo economico, quindi qui l'interdisciplinarietà, ma che passano per esempio anche dalla costruzione di edifici energeticamente sostenibili e in grado per esempio di risparmiare calore durante l'inverno e di non aver bisogno di grandi sforzi per essere rinfrescati durante l'estate. Quindi capisce bene che c'è spazio per professionisti di tantissime discipline. Noi come Sima abbiamo presentato ad ottobre scorso e presentato alla Camera dei Deputati il programma U4ALL di cui forse Alessandro così chiamo in causa a modi dibattiti. Sì come no, fa benissimo. Dirci qualcosa in più. U4ALL è un progetto che è nato da Sima, anche questo prima volta però nel mondo, l'University Rectors for Health and Environment, i Rettori per l'Ambiente per la Salute che prevede, ed è un progetto in corso, che prevede l'attribuzione di alcuni CFU a corsi di laurea sia scientifici che tecnici che umanistici per formare trasversalmente, ovviamente qui stiamo parlando di pochi CFU, ma per dare una infarinatura, seppure scientifica, con basi scientifiche a tutti i livelli, a tutti gli studenti del maggior numero di università possibile sul tema dei cambiamenti climatici, l'impatto che questi hanno sulla salute e determinanti ambientali e sociali della salute. Questo del Master è un passo in avanti che viaggia in parallelo perché pochi crediti sono utili per dare un'infarinatura anche a degli studenti che stanno facendo e intraprendendo un percorso di studio, ma per quei professionisti o quei laureati che hanno bisogno di professionalizzarsi per poter portare poi le conoscenze acquisite direttamente nel loro ambito lavorativo, era importante introdurre uno strumento e questo del Master di secondo livello universitario è uno strumento molto importante. Assolutamente, sì. L'amico Prisco Piscitelli, ovviamente rispondo io per lui, si occupa all'interno del Master, porta la sua esperienza come medico, come epidemiologo, come esperto anche di ricerca scientifica, è un grande ricercatore Prisco per tirare un pochettino le fila dal punto di vista della scienza su tutte queste che sono tutte queste discipline per focalizzarle nel caso suo sull'ambito specificamente clinico. Io vorrei fare un po' una panoramica di quelli che saranno gli insegnamenti di questo Master. Tra l'altro, professore, io la faccio parlare immediatamente, però ci terrei a sottolineare una cosa perché io leggevo che la sua disciplina è denominata epidemiologia e programmazione sanitaria. Siccome siamo andati avanti un po' anche per parole chiave, no? Ecco, se c'è una cosa che è mancata nel nostro paese, al netto della ferocia con cui questo virus sconosciuto lo ha colpito, è proprio la programmazione sanitaria ed è questo che serve da qui in avanti, non per far fronte al coronavirus, ma per essere secondo me un paese civile e attrezzato per fronteggiare sì una pandemia globale, ma anche qualcosa di meno, no? Sarà d'accordo con me, professore? Sono d'accordo e con il professor Miani abbiamo pubblicato sull'Anset Public Health tra fine dicembre e inizio gennaio proprio un articolo che andava nella direzione di affrontare il problema delle disuguaglianze sanitarie nel nostro paese. Ecco, è troppo che noi non programmiamo i servizi sanitari che dobbiamo erogare, se vuole, anche in maniera uniforme nei vari territori della nostra Italia sulla base di quelli che sono i bisogni di salute dei territori, quindi sulla base del dato, qui vengo alla mia disciplina, epidemiologico, perché se noi oggi abbiamo che i grandi ospedali pediatrici, se escludiamo quello messo a disposizione dallo Stato estero, che è la città del Vaticano, sono realizzati nelle zone d'Italia con il più alto indice di vecchiaia e ovviamente trovano i loro utenti in bambini che provengono da zone d'Italia che hanno invece un basso indice di vecchiaia e non hanno le stesse possibilità di accesso a strutture pediatriche di elevata eccellenza, lei capisce bene che questa non è un'adeguata programmazione sanitaria, così come non è un'adeguata programmazione sanitaria è quella che abbiamo fatto non alla luce delle risorse economiche disponibili, ma in funzione delle risorse economiche o della parola d'ordine economica che era esclusivamente tagliare, tagliare, risparmiare, risparmiare. Potremmo richiamare così per non annoiare i nostri ascoltatori qualche caso esemplificativo, quando negli stati dell'Ovest degli Stati Uniti d'America negli anni 70 si decise che bisognava abbattere la spesa degli psicofarmaci, perché era una voce importante in alcuni stati, si ebbero delle ondate di ricoveri che poi fecero aumentare la spesa complessiva, cioè non bisogna guardare il risparmio nell'immediata voce di piano. Certo, certo, ma bisogna vederlo sul medio e lungo termine, spendendo oggi bene se ne avranno ovviamente i benefici non solo domani ma anche più in là nel tempo. Vado veloce, perdonatemi ovviamente perché siamo sul finire di questa bella intervista che vi avevo promesso essere interessante e piena di botte e risposta, spero lo sia stata con i due ospiti che si sono anche fatti domande a vicenda, quindi insomma hanno anche preso in un certo modo il mio ruolo, ma io sono assolutamente contento di come si è svolta. Volevo andare dal professor Miani per evidenziare le ultime caratteristiche di questo master che poi vi invito ovviamente a leggere nel dettaglio sul sito www.unicusano.it. È un master della durata di 1500 ore, 60 CFU. La somministrazione didattica sarà in e-learning, però professore è importante ricordare che il master sarà arricchito da una serie di seminari sia in presenza ma anche webinar dove saranno affrontati diversi casi di studio proprio per consentire alle figure professionali che potranno aderire di vantare un'adeguata e aggiornata specifica preparazione proprio da spendere nella libera professione. Vorrei qualche parola per concludere questo discorso da lei, professore. Sì, questa dei webinar e anche fatti poi in presenza è un punto importante perché una cosa è la teoria, poi c'è la pratica. Ecco, questa è un'occasione di pratica, di incontro con i protagonisti del mondo, diciamo, dell'ambiente e della salute, di questo binomio importante. Quindi ci saranno le ARPA, ci saranno magari l'ISPRA, ci sarà personalità del CNR, dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche del mondo dell'industria, del mondo, diciamo, anche dei consumatori. È un modo per, e anche esperti ovviamente, liberi professionisti, esperti, è un modo per, partendo da un caso studio, fare capire con chiarezza come funziona l'approccio, da un lato, quali sono le soluzioni e un altro aspetto importante è anche quello di parlare di tecnologia, perché ad oggi, in questo ambito, mentre sono già alcuni milioni le persone che in Italia soffrono di patologie ambiente correlate, scarseggiano, diciamo così, le terapie, ci sono ovviamente, c'è la possibilità di anticipare con dei marker e quindi fare della diagnosi anche precoce, però la tecnologia diventa importante perché alcune tecnologie sono strumenti utili e capaci o di monitorare gli inquinanti o direttamente di mitigarne l'effetto anche sull'uomo e quindi anche parlare di questo e presentare quello che ad oggi esiste sul mercato, raccontato e spiegato dai protagonisti, da chi utilizza anche questo tipo di tecnologie, da chi le ha pensate, studiate, brevettate e quindi ingegneri, professori universitari, è un modo per avvicinarsi di più al tema e sapere che esiste un problema ma ci sono anche delle risposte e delle soluzioni. Risposte e soluzioni che potrete trovare all'interno di questo master, master di secondo livello in medicina ambientale con l'università Nicolò Cusano in partnership didattica con Sima, di cui noi abbiamo avuto praticamente i vertici, il presidente, il professor Alessandro Miani, il vicepresidente, il professor Prisco Piscitelli che ringrazio e magari ai quali do appuntamento a tra qualche giorno, magari non siamo proprio specifici, però ce lo diamo a breve questo appuntamento, siete d'accordo? Ma certo, anche perché se mi consente il professore Antonio Felice Uricchio che ricordava prima che doveva essere con noi adesso, oltre a essere il presidente dell'Ambur e anche, oltre a essere anche un caro amico, è anche il presidente del nostro comitato scientifico e quindi sarebbe piacevole poter avere uno scambio anche con lui che peraltro ha una visione più da giurista economista, perché anche questo è un aspetto portante. Assolutamente, io infatti parlerò a questo punto, diamolo per certo professore, di politiche ambientali, quindi restate in allerta perché torneremo sempre sul 264 per parlare di ambiente e politiche ambientali, ancora con Sima, ancora con il professor Miani e con il presidente del comitato scientifico, il professor Antonio Felice Uricchio. Io ringrazio i miei ospiti e ovviamente l'appuntamento è a breve, come ci siamo detti. Grazie mille ad entrambi, grazie, buona giornata. Ebbene dunque, qui si conclude la puntata di Dietro la Lavagna, abbiamo parlato di medicina ambientale, un tema di stretta attualità che interessa sempre di più, speriamo di avervi interessato anche noi in questa mezz'ora scarsa che abbiamo trascorso insieme, sempre sul 264, sempre su Cusano Italia TV. Ciao! Ciao!